Eccoci qui e benvenuti in questo nuovo video. Spero stiate bene e che siate interessati al video odierno, dove parleremo di pressione fiscale, imposte e tasse. Infatti, non so se lo sapete, ma c'è un ente no profit che da anni ha sviluppato una certa affidabilità e popolarità, il cui nome è Tax Foundation. Infatti, questo ente no profit si occupa di elaborare ricerche, valutazioni e analisi sulla pressione fiscale dei vari paesi, sia dell'area Ocse che dell'area Euro. E proprio per questo anche l'Unione Europea in sé più volte si affida a Tax Foundation per studi o comunque analisi riguardo le pressioni fiscali nei vari paesi. E proprio per questo ha deciso di dare un occhio veloce all'ultimo indice rilasciato da Tax Foundation, ovvero l'indice della competitività per quanto concerne le imposte nei vari paesi dell'Unione Europea e non solo, come potremo vedere. Infatti, come possiamo vedere, Tax Foundation ha elaborato questa classifica dove vengono valutati il punteggio generale raccolto comunque dai vari stati. Ovviamente un punteggio alto vuol dire un'alta competitività, quindi tasse imposte basse. Un punteggio generale, quindi, le tasse sulle imprese e sulle aziende, le tasse sulle persone fisiche, le tasse al consumo, come ad esempio l'IVA, le tasse sulle proprietà, quindi le classiche patrimoniali, e le cross-border tax rules, ovvero, ad esempio, gli accordi di doppia tassazione. Un reddito prodotto all'estero se, come, quando e viene tassato sia in due paesi che in un paese e così via. Ma non stiamo qui a dilungarci. Al primo posto di questa classifica troviamo l'Estonia, un paese nordico che sta crescendo a ritmi davvero impressionanti. Vediamo infatti che le tasse sulle imprese sono le terze più basse di tutta la classifica. Successivamente troviamo che le tasse sul reddito delle persone fisiche sono le più basse di tutta la classifica. Successivamente troviamo tasse al consumo, che comunque sono il nono posto, ma direi più che accettabili. Tasse sulla proprietà praticamente nulle, che le consentono di avere il primo posto, e poi tasse su, comunque, accordi cross-border, ossia oltre frontiera, che comunque ricoprono il quindicesimo posto. Andiamo un po' a vedere. Secondo posto troviamo la Lettonia. Terzo posto un'interessante Nuova Zelanda. Quarto posto la famosissima Svizzera, che ha tasse sul consumo, che ha le minori tasse sul consumo, come possiamo evincere dalla classifica. Andiamo però a cercare l'Italia. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, e finora non mi sembra di incontrarla. Andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Vediamo, nel vedere vediamo tanti stati comprendenti dei paesi oxe. Vediamo che in Cile, ad esempio, le imposte sulle società sono le più basse di tutta la classifica, e quindi le più competitive. Proprio per questo tante aziende sono invogliate a trasferirsi in Cile. Trentasettesimo posto, ultimo posto della classifica, troviamo la nostra Italia, la quale è al trentesimo posto su trentasette per tasse sulle imprese. Al trentatresimo posto su trentasette per tasse sulle persone fisiche, quindi sul lavoro. Al ventottesimo posto per le tasse sul consumo, come abbiamo visto abbiamo detto c'è l'IVA, ma ci sono anche ad esempio le tasse sul tabacco, le tasse sugli alcolici. E trentasettesima su trentasette per quanto riguarda le tasse sulla proprietà. Assurdo pensare che vi siano comunque schieramenti politici che ritengono tutt'oggi di dover aumentare le imposte sulla proprietà in Italia, nonostante comunque siamo già all'ultimo posto, ovvero abbiamo le proprietà più tassate. Ventiseisimo posto invece per quanto riguarda gli accordi di tassazione trasfrontalieri, un risultato sufficiente ma che comunque non basta a rialzare le performance italiane. Vediamo che poco sopra di noi c'è la Polonia, la quale comunque raccoglie risultati assai migliori sia sulle tasse per le imprese sia sulle tasse sul lavoro, e la Francia che comunque ha una pressione fiscale elevata, molto simile a quella dell'Italia. Tuttavia ha imposte sulle proprietà più basse, imposte sul consumo più basse, al contrario invece imposte societarie e imposte sui redditi più alte. Per come la vedo io ovviamente bisogna tener conto anche dei servizi che vengono ricevuti, quindi è inutile paragonare l'Italia ad esempio alla Colombia, perché è ovvio che comunque in Colombia ci sarà sì meno pressione fiscale, ma al contempo è normale anche aspettarsi servizi peggiori. Tuttavia possiamo vedere che esisteranno altri paesi con i quali l'Italia si può confrontare, dai quali l'Italia dovrebbe prendere esempio, che forniscono servizi la cui efficienza di gran lunga superiore rispetto a quella italiana, però comunque hanno una pressione fiscale assai inferiore. Ne è un esempio il Regno Unito, che comunque ha imposte e tasse assai più basse. Lo stesso discorso può essere fatto per l'Irlanda, il paese dell'Unione Europea che sta crescendo di più negli ultimi anni. Idem per la Germania. E così poi a salire. Credo comunque che un buon punto di partenza potrebbe essere la Danimarca, paese che offre servizi davvero incredibili e che comunque, come possiamo vedere, sulle imposte riguardo per il reddito delle persone fisiche ha comunque valori importanti. Non bisogna però dimenticarsi che nei paesi nordici si possono andare a ridurre tantissimi costi. Ad esempio una famiglia che compra un nuovo materasso potrà ridurre dalla base imponibile del proprio reddito i soldi spesi per il materasso, così come anche per un semplice nuovo paio di scarpe, cosa che in Italia purtroppo non è fattibile. Un altro esempio interessante riguarda il cuneo fiscale di un dipendente sposato con due figli a carico in un nucleo familiare con un solo reddito. Come possiamo infatti vedere dalla classifica, l'Italia è il paese dove le imposte per questa famiglia monoreddito sono più alte e riescono a raggiungere quasi il 40%. Possiamo infatti vedere sempre riguardo a questa classifica che tra i paesi sviluppati troviamo comunque Svizzera, Canada, Cile, Nuova Zelanda con imposte assai minori. Come abbiamo visto prima però bisogna tener conto anche del valore dei servizi, quindi il paragone col Cile è un paragone un po' forzato, al contrario è assai più lecito paragonarci alla Svizzera, al Canada o comunque a paesi come la Nuova Zelanda e il Lussemburgo. È interessante vedere come negli ultimi vent'anni il prodotto interno lordo dei paesi dell'Unione Europea sia cresciuto. In primis è cresciuto quello dell'Irlanda, che infatti ha registrato una crescita davvero importante. Questo perché? Perché se infatti noi andiamo a guardare la pressione fiscale dei paesi europei, vediamo infatti che l'Irlanda è il paese dell'Unione Europea con la pressione fiscale più bassa. Troviamo infatti al primo posto la Francia e al primo posto la Danimarca, al secondo la Francia, Belgio, Svezia, Austria e Italia. Ma all'ultimo posto, quindi con la pressione fiscale più bassa, troviamo proprio l'Irlanda. Non stiamo parlando di un paese del terzo mondo, stiamo parlando invece di un paese che negli ultimi anni è riuscito a crescere e non poco. Interessante è questo articolo che nota come il PIL dell'Irlanda sia stato l'unico a crescere in un anno come è stato il 2020, l'anno del Covid, che ha portato praticamente tutti gli stati del mondo ad avere il loro prodotto interno lordo diminuire. È infatti ovvio che una bassa pressione fiscale invogli le aziende a spostarsi sul luogo che offre queste condizioni e di conseguenza a creare lavoro per tutti. Al contrario, paesi con un'alta pressione fiscale automaticamente disincentivano gli investimenti da parte sia delle aziende locali che da parte di aziende estere. Possiamo infatti vedere da questo grafico interessante che l'Irlanda si colloca al sesto posto per PIL pro capite tra i paesi dell'Unione Europea, altro dato che va a rinforzare la tesi per cui una bassa pressione fiscale permette anche al paese un'importante crescita. Ribadisco, stiamo parlando di Irlanda, non stiamo parlando di Bulgaria o comunque paesi arretrati che stanno vivendo un boom e comunque la loro rivoluzione industriale. Stiamo parlando di un paese che da sempre comunque ricopre un ruolo importante nell'Unione Europea. Di pari passo con il lavoro va anche la disoccupazione. Infatti all'aumentare del numero di imprese che si spostano e quindi si trasferiscono nel paese con la bassa pressione fiscale diminuisce anche il numero di disoccupati. Questo perché ovviamente le imprese cercheranno i lavoratori. Quindi andiamo un po' a vedere questa classifica della disoccupazione nell'Unione Europea e troviamo al primo posto la Spagna, seguita da Turchia e Italia. Ma andiamo un po' a cercare la nostra Irlanda, la quale si trova al ventunesimo posto, con una disoccupazione del 5%. Ultimo posto ricoperto dalla Repubblica cieca, con un dato assai interessante, una disoccupazione pari al 2,7%, un dato davvero invidiabile. Negli ultimi mesi in Italia sembra si stia procedendo verso una politica di riduzione della pressione fiscale. Infatti abbiamo visto che si va verso una modifica delle aliquote IRPEF. Tuttavia è evidente che le politiche fiscali siano le più importanti per garantire l'attrattività e la crescita di un paese. Proviamo infatti ad immaginare un paese in via di sviluppo come ad esempio può essere la Papua Nuova Guinea. Nel caso in cui effettivamente venisse approvata una Global Minimum Tax, tutti gli stati avrebbero una tassa uguale, ovvero imposte uguali e quindi non vi sarebbe alcun interesse per le società a trasferirsi in tra virgolette paradisi fiscali. Tuttavia non si darebbe l'opportunità di crescita ai paesi in via di sviluppo, perché l'unica leva che hanno per poter crescere è proprio la politica fiscale. Quindi in realtà questa Global Minimum Tax di cui si parla spesso è una manovra che va a limitare la crescita dei paesi che oggi sono già svantaggiati. Infatti l'unico modo che potrebbe avere per crescere la Papua Nuova Guinea è quello di attirare investitori. E come si possono attirare investitori? Ovviamente attraverso una politica fiscale allettante e quindi abbassando la pressione fiscale. Nel momento in cui arrivano le imprese, le imprese fanno investimenti, le imprese assumono e quindi l'economia inizia a girare. Se la Papua Nuova Guinea avesse le stesse imposte che ad esempio ci sono in Germania, l'impresa non avrebbe alcun interesse a spostarsi in Papua Nuova Guinea. Quindi la Germania rimarrebbe sì un paese sviluppato, ma la Papua Nuova Guinea non avrebbe mai l'occasione di potersi sviluppare effettivamente. Spero che questo video abbia trovato il vostro interesse, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti e per darmi supporto e vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Ci vediamo al prossimo video!